Eccoci tornati insieme a parlare di salute con il nostro dottor Salvatore Cusenza, specialista in scienza dell'alimentazione, che ogni martedì ci regala 5 minuti preziosi del suo tempo venendo in studio. Come avrete notato, ovviamente lo studio ha dei suoi schemi, no? Il dottore ovviamente si occupa di altri schemi, di tabelle alimentari, quindi quando arriva in studio porta un po' di scompiglio, ma è uno scompiglio che ci piace, che ci fa piacere. Grazie, grazie dottore per la disponibilità. Di cosa parliamo oggi? Beh, oggi vorrei parlare un po' di patologie autoimmuni, quindi molto diffuse, e degli approcci alimentari che si possono applicare a queste patologie autoimmuni. Le patologie autoimmuni sono molto diffuse, dalla semplice tiridite autoimmuno di Hashimoto fino ad arrivare alle patologie del sistema scheletrico, quindi artrite, artrosi, la psoriasi, l'artrite psoriasica, sono tutte patologie in continua evoluzione e diffusione, anche perché l'età media si è allungata, quindi più si allunga l'età media, più le patologie, la possibilità di manifestarsi nella patologia aumenta. Per la legge dei grandi numeri. Negli ultimi anni abbiamo scoperto, anche in età avanzata, anche da adulti, patologie che magari non avremmo mai sospettato, non solo l'esistenza, ma anche che l'avremmo potute provare sulla nostra pelle. Eh sì, perché prima, 70-80 anni fa, l'età media era 40-50 anni, quindi neanche si manifestavano certe patologie. Faccio un esempio, è vero che le patologie oncologiche adesso sono molto aumentate, sia per pesticidi, insetticidi, il tipo di alimentazione, ma anche perché si vive di più, quindi la probabilità di un'alterazione genetica a livello del corpo aumenta perché si è allungata la vita media, quindi abbiamo più problematiche da questo punto di vista. Si allunga la vita, ma aumentano anche i problemi, quindi dovremmo cercare di allungare la vita, ma viverla meglio. A questo servono gli specialisti come te, ecco, quali sono le relazioni tra cibo, alimentazione e patologie autoimmuni? Beh, saranno almeno 15 anni che si parla di alimentazione per patologie autoimmuni. L'esempio più pratico che ho visto nel mio studio è l'applicazione di un particolare metodo sulle persone che hanno la psoriasi. Nelle persone che soffrono di psoriasi, in cui si può manifestare anche l'artrite psiorasica, se noi andiamo a eliminare drasticamente dall'alimentazione le caseine, che sono delle proteine del latte, quindi latte, latticini, formaggi, che tentano a stimolare il sistema autoimmuna a rivoltarsi contro, il glutine, l'istamine, le solanine, le solanacee, queste persone tendono a regredire la patologia senza farmaci. Oltre a questo bisogna fare grosse integrazioni di vitamina D, omega 3 e magnesio. Caseina e glutine più o meno riusciamo a capire dove possono, tra virgolette, nascondersi. Solanine e solanacee? Parliamo di altri due gruppi che comprendono patate, pomodori, pepe, bacche di goji, spinaci, quinoa, amaranto, quindi degli pseudo cereali, i legumi, quindi hanno delle sostanze che tendono a stimolare il sistema autoimmune a rivoltarsi contro. Più il sistema autoimmune si rivolta contro e più il problema si manifesta. Ultimamente si parla anche di patologie, spieghiamolo in modo semplice, di patologie in cui il sistema immunitario è troppo forte, cioè reagisce repentinamente a queste sostanze, viene iperstimolato e quindi crea dei disagi nel corpo della persona che ne soffre. Dei disagi poi come la psoriasi è abbastanza evidente, quindi con queste chiazze molto importanti. E io ho provato proprio nello studio queste persone che avevano la psoriasi senza dare farmaci, ma facendo questa alimentazione abbastanza drastica, perché poi è molto limitante, e con altri dosaggi di vitamina D, omega 3 e magnesio, che effettivamente dopo un mese, un mese e mezzo, la psoriasi tendeva a regredire, addirittura quasi sparire, perché è un problema interno. Quindi se noi eliminiamo le sostanze che stimolino il corpo a manifestare la patologia, il tutto scompare. È ovvio che, come precisiamo sempre, ogni caso, ogni persona è un caso a sé. Sì, perché poi bisogna distinguere anche, parlo della psoriasi, se è una psoriasi volgare, guttata, immersa, ci hanno vari tipi di psoriasi, quindi in generale è quello il motivo. Poi logicamente c'è sempre lo specialista dermatologo che può dare dei farmaci. Sono usciti da un po' dei farmaci biologici, quindi che vanno a bloccare il sistema immunitario, ha un po' a spegnerlo, però questo ha dei lati positivi da una parte e dei lati negativi dall'altra, perché indebolire, spegnere un po' il sistema immunitario poi potrebbe creare dei problemi da un'altra parte, tipo facilmente ammalarsi di altre patologie, raffreddori, infezioni e quant'altro. La riflessione che facevo anche, ascoltandoti, dovuta dal fatto che ovviamente un approccio, come dire così, poco consapevole, tante volte ci può portare a fare, a aggiungere a conseguenze sbagliate, cioè questo non si può mangiare, questo non si può mangiare, questo non si può mangiare, allora non posso mangiare niente. No, non è così perché ognuno di noi ha delle caratteristiche, delle specificità e delle problematiche diverse, quindi è lo specialista che poi indirizza. Esatto, ormai siamo arrivati a un punto dove ad ogni patologia possiamo abbinare un tipo di alimentazione. C'è abbastanza precisione in questo settore da ormai dieci anni, cioè non possiamo fare il tutto uguale per tutti, perché se un paziente soffre di cattiva tolleranza ai FODMAP, quindi ha una colite, un colon ritato, ha una gastrite, ha delle diverti coliti, andiamo a associarci un'alimentazione adatta e dopo 15-20 giorni il problema regredisce, il paziente sta molto meglio. Molto bene. Carissimo Doc, ovviamente noi non abbiamo né il tempo né il modo di approfondire tutte le tematiche, però ci fa piacere gettare qualche spiraglio di luce su queste tematiche. A questo proposito, quando la camera ti inquadra, la regia, oltre il tuo nome e cognome, fa comparire anche un indirizzo mail al quale i nostri telespettatori possono scriverti, scriverti perché ovviamente, come abbiamo appena ricordato, le cose, le patologie, le diete sono diverse da persona a persona a seconda delle loro specificità. Per cui l'invito a chi volesse saperne di più è a scriverti una mail. A cui io risponderò se mi arriva, no? Sì, mi raccomando, tieni in sott'occhio quindi la mail, generalmente il nostro è un pubblico molto reattivo e molto attento. Io ti ringrazio anche oggi per la disponibilità che ci hai dato e spero di ritrovarti prossima settimana. Sicuramente, ci vediamo martedì prossimo, alla stessa ora, sullo stesso canale. Molto bene, ecco, sta diventando più bravo di me, per cui potrebbe esserci anche un avvicendamento a breve. Linea alla regia e a martedì prossimo con la salute vi è mangiando a cura del dottor Salvatore Cusenza. Grazie a tutti.